Assessore Ciro Ferrandino inizia una nuova avventura, certamente non è un segreto che alle elezioni non era dalla stessa parte di Enzo Ferrandino, conosciamo anche i trascorsi politici passati, allora che cosa l'ha convinta a sposare la causa di questa amministrazione? Ma sicuramente l'azione positiva che Enzo Ferrandino, sindaco, e la sua squadra amministrativa ha posto in essere in questi anni. Il sindaco ha già chiarito dal suo punto di vista, ha detto che in realtà gli scherzi del passato erano soltanto frutto di una dialettica politica normale, che anche quell'episodio in realtà fu trapisato, quello del ci vediamo giù e ti spiego, insomma anche su questo c'è stata polemica, tutto chiarito. Ma allora non c'è stato mai bisogno di un chiarimento perché la verve che noi mettevamo in Consiglio Comunale, gli obiettivi che si volevano raggiungere erano comuni e molte volte era una dialettica forte all'interno del Consiglio Comunale, rimaneva nel Consiglio Comunale anche dei fatti, anche questa dialettica forte poi finiva con il Consiglio Comunale. Quindi questa è la verità. Non c'erano qualcuno definito, c'erano delle ruggine. Le ruggine ci sono quando ci sono fatti che vanno al di là delle questioni amministrative, ma invece noi erano soltanto questioni amministrative. Volevamo raggiungere alla fine lo stesso obiettivo, cioè apportare un contributo al Paese e ognuno di noi portava avanti delle tesi che poi alla fine convergevano, abbiamo visto che poi convergevano. Nel 2017, anzi prima, anche prima, promissi che uno degli atti che andavamo a fare era quello di studiare come creare una pista ciclabile nel Comune d'Ischia. Ebbene, una delle prime delibere a cui ho partecipato da Assessore Comunale prevedeva proprio questo, cioè la creazione di una pista ciclabile sull'asse Porto-Ischia-Ponte, Ischia-Ponte-Porto. E quindi, come dire, da un punto di vista dei fatti e degli atti a favore del Paese, questa amministrazione sta facendo tante e è presente su tutti i problemi. Stiamo studiando, ad esempio, una premialità per favorire la destagenerizzazione del nostro turismo e creare quindi maggiore occupazione, più mesi lavorati, creare un indotto, quindi dare la possibilità alle attività di somministrazione, di commercio, e di lavorare per più mesi con una clientela più ampia. Quindi stiamo pensando a creare una premialità anche per le nuove attività, cioè siamo sui problemi. Questa amministrazione fino ad oggi già l'aveva fatta e io l'ho apprezzato questo. Quando un'amministrazione lavora per il bene del Paese, lavora con atti trasparenti, non si può fare altro che essere obiettivi e apprezzare il lavoro. E quindi probabilmente era più semplice rimanere al di fuori, sul piedistallo, criticare e scrivere. Invece è più complicato sicuramente amministrare, però è una sfida che io ho accettato e ci sto mettendo tutto all'impegno, così come tutto, ripeto, perché questo è un lavoro di squadra, è un'amministrazione che lavora molto in modo unito a favore del Paese.